Con due rinvii e l'anticipo di oggi di Campobasso nel quale è impegnato il Giulianova di Leonardo Bitetto, la giornata di Serie D di domani vedrà in campo solamente due formazioni abruzzesi, Vastese e Castelnuovo. Gli aragonesi, dopo il pareggio in settimana nel recupero con Castelfidardo, tornano all'ossa di Aragona dove sette giorni fa lasciarono l'intera posta in paglio proprio ai nero-verdi di Guido di Fabio. Lo faranno ancora una volta profondamente trasformati perché nelle ultime ore sono addirittura tre i giocatori che la società del presidente Bolami ha messo sotto contratto. Si tratta di Diarrà, Ciafardini e Mamona. Il primo, centrocampista maliano classe 1999, nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia dell'atletico Terme Fiuggi dopo le esperienze negli anni passati con Olimpia Dionese e Gravina. Il secondo, Ciafardini, un esterno difensivo classe 2002 di Termoli, cresciuto nella polisportiva San Pietro e Paolo, nella città molisana e poi passato al settore giovanile del Pescara. All'inizio di questa stagione calcistica per lui dal Delfino il passaggio all'Under-18 del Sassuolo e ora la prodo in bianco-rosso. Infine, Samuel Mamona che arriva in bianco-rosso in prestito dalla Vis Pesaro. Classe 2002, attaccante di talento nativo proprio di Pesaro, è cresciuto nell'Accademia Rimini Calcio per poi passare al vivaio del Cesena e della Sampdoria. In seguito ha fatto ritorno a Pesaro nel 2019, impiegato nel settore giovanile della Vis e dall'inizio di questa stagione è stato a disposizione della prima squadra di Serie C, collezionando anche la sua prima presenza tra i professionisti nella gara giocata dai marchigiani a Padova. Per l'undici di Dadderio però c'è la necessità di fare quei punti che servono per allontanarsi da una zona molto pericolosa di classifica. Dall'altra parte c'è il Vasto Girardi che invece, grazie anche alle reti di Mercai, viaggia a ridosso della zona play-off. Impegno d'alta classifica, almeno sulla carta per il Castelnuovo, la formazione di Guido Di Fabio in una settimana ha perso il primato solitario in guerra aduatoria per effetto del settimo successo consecutivo dei Rieti nel recupero contro l'atletico Porto Sant'Elpidio. Ma è altrettanto evidente che ormai quella nero-verde è formazione che ha i numeri per potestare lassù. Domani però arriva la Recanatese, scottata dopo la lunga pausa condita da Rimini in serie e dal pareggio interno a sorpresa contro il Castelfidardo. I Lopardiani di Giampaolo sono accreditati come 11 in grado di contendere il campionato a quelle che stanno in alto, ma non aver giocato per tanto tempo può aver fatto perdere un po' di abbrivio ad uno organico che ha comunque uomini in grado di provare la rimonta. Rinviate invece le gare di Notaresco, che al Savini avrebbe dovuto ospitare il Tolentino, e la trasferta a Montegiorgio del Pineto, che in settimana ha salutato l'esterno Mancino Nicolao e l'attaccante Tomassini. Il primo si accasa al Nardò, il secondo al Follonica Gavorrano. Il rosso-blu di Epifane invece, in attesa di sapere quanto dovrà stare fuori Colombatti, che si è fatto male nel match contro la Cinzia al Balonga, prendono in prestito dall'Avellino il centrocampista classe 2000 Tommaso Carbonelli.